pronto mi puoi buttare in game please pronto 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 ok babariba 91 babariba è dei nostri bro mi senti? sei con noi? sei con noi bro? babariba la prego mi ti accenni di vita la prego mi ti accenni di vita babariba è andato pronto allo allo mi senti bro? però non mi sento ma scende almeno con me o no? mi senti bro? giudy giorgio 1 ma non scende neanche con me siamo fottuti siamo fottuti raga niente da fare buongiorno giudy giorgio benvenuto col prime ma perché non è sceso? perché non è sceso? ma perché l'unico fk nell'arenco lo devo trovare io? babariga ho bisogno urgentemente di uno suo cenno di vita mi senti bro? mi senti bro? niente babariba non ci sente così fk il rank io non commento ma non è un problema fk il rank io non commento vuole intanto i barilozzi ah cioè lui si sta muovendo semplicemente non parla perché non sei atterrato con me bro? che cazzo ti ho fatto di male? perché non sei con me bro? non odiarmi ti prego non odiarmi ti prego niente non sapevo dove sia il bro voleva solo metto stregge la vigenzia bro scusami vediamo se arriva dei nostri niente il bro non risponde tutto mutato tutto mutato siamo rovinati siamo rovinati tutto mutato per favore io voglio parlarti non posso deragare ancora allora io devo andare a capire cosa sta facendo baba devo capire cosa sta facendo baba raga siamo in duo rank noi proprio comple ma perché non vuole perché non gioca vicino a me intanto mi lutto qua i forzieri grazie mille baffo 77 ciao bello niente c'erano proprio quattro forzieri in croce andiamo mentaliti raga la k è una merda abbiamo fatto 90 punti c'è gente sul sullo yacht devo andare da baba riba ma lo sai che dobbiamo giocare insieme non lo sai so dove è la grotta so dove è la grotta sto andando dal mio amico babariba lo vado a prendere perché io sono uno che ci tiene alla squadra lui proprio se ne sbatti i coglioni lui proprio va da solo credo comunque nella squadra credo comunque nella squadra esplode tutto qua non possiamo starci vicino cosa cazzo pensi di fare non è molto sicura questa macchina bro non è molto sicuro questa macchina bro se lo dico esplodiamo bro vuole andare all'antenna forse dovrebbero rimettere John Wick sì ragazzi la vedo molto male col signor babariba cambio tecnico dove stai andando sta andando all'antenna 100-100 questo non è spawnata qua bro davanti a noi gente cosa vuole fare qua ah rimaniamo sopra qua per quale motivo esattamente cosa ci serve stare qua ecco questo non lo volevo vedere bro se c'ero questo non lo volevo vedere ok babariba ha preso il cazzo in faccia questo è un problema questo è un problema cachet a mezzo chilometro tempo per la scheda 220 secondi no non si può andare al cachet troppo lontano con la macchina sì cachet e poi la scheda di babariba uno perché non sei stato con me durante tutto l'inizio della partita due perché non mi piace il nome babariba si può fare non mi piace come nome 150 secondi sono due minuti in due minuti la card del babariba la vado a prendere siamo dentro in 20 babariba comunque lo sa che gli andrò a prendere la scheda è il mio mate dai 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 armi semplicemente imbarazzanti abbiamo la card ribottiamo in un punto intelligente dentro a correboot dentro a correboot raga dentro a correboot sì sì meno male è un acquittato bellissima questa mappa perfetto perfetto il reboot è arrivato raga buona sta cosa può mettersi può curarsi andare full non arriva nessuno lutto anch'io raga gente mi lanciano le cure non sono male ragazzi le duo fill figa che schifo sono male buona così raga ora così raga pulita pulita nice gg ok lo prendi pericoloso raga grazie raga grazie un'altra cosa di carino ropa finca fai veramente cagare mamma mia mamma mia mamma mia ce la faccio ce la faccio ce la faccio a a Grazie a tutti Un momento, un momento, un momento Figa Toglio 8 Siamo in 8 Ciao Ciao Lo so, lo so, lo so Va bene, minchia, con pochissimo, con 30 di vita, raga Va bene, va bene, top 4 Due kill, forse vi ho arrancato Vediamo Oh, che schifo Che schifo Merda Ciao